Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. In direzione Roma, per il traffico congestionato un chilometro di coda in diminuzione tra Badia e Aglio e 3 chilometri di coda in diminuzione tra Aglio e Barberino di Mugello. Spostandoci sulla FIPILI è stata chiusa per lavori l'uscita di Livorno a Aurelia, provenendo da Livorno. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze via di Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!